Visita sorpresa a Kiev per la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il viaggio non era stato preannunciato per motivi di sicurezza. Durante la missione si discuterà dell'adesione del paese al blocco dei 27, prima che Bruxelles pubblicherà un report sull'allargamento. La numero uno dell'esecutivo europeo è stata accolta dal Presidente Zelensky e da sua moglie alla stazione della capitale, dove hanno celebrato la giornata dei ferroviari ucraini. Il viaggio non è stato preannunciato per risolvere l'Unione Europea e per tornare a casa di nuovo. Abbiamo avuto i prodotti e i prodotti vitali fuori dell'Ukraine e fuori del mondo. Stai mantenendo la linea di vita. E' un'esercizio, posso noterlo, perché è la settimana che ho venuto a Kiev per un treno, e devo dire che questo treno è una legenda. Durante la cerimonia i dipendenti delle ferrovie ucraine hanno ricevuto dei premi per il loro lavoro durante i mesi di conflitto con la Russia. Un milione e mezzo di persone sono attualmente gli sfollati da Gaza su un totale di poco meno di 3 milioni. Secondo le Nazioni Unite, 700.000 si trovano in strutture dell'ONU. Circa quattro volte la capacità massima. Martin Griffith, sottosegretario generale per gli affari umanitari dell'ONU, ha parlato di un disastro collettivo. Ciò che abbiamo visto spiegare over the last 26 days in Israel and in the occupied territories è nothing short of what I think I would call a blight on our collective conscience, all of us. We are all somehow involved in this. Ad alcuni gazzani con doppia nazionalità e persone ferite è stato permesso di lasciare la striscia dal valico di Rafah. Gli aiuti umanitari che entrano nel paese però sono ancora troppo scarsi, secondo gli osservatori dell'ONU. A Gaza manca praticamente tutto, ma negli ultimi giorni è aumentata drasticamente la richiesta di acqua potabile. Centinaia di lavoratori palestinesi bloccati in Israele dallo scoppio della guerra sono stati rimandati a Gaza dopo che Israele ha deciso di interrompere ogni contatto con la striscia. Da quando è scoppiato il conflitto, circa 18.500 trasfrontalieri avevano un permesso di lavoro nello stato ebraico. Almeno 700 di loro sono già stati fatti rientrare nella striscia attraverso il valico di Kerem Shalom nell'estremo sud, vicino all'Egitto. Intanto nella zona si sono sentite di nuovo le sirene che avvisavano del lancio di razzi dalla striscia assediata dai raid israeliani dopo l'attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre. In queste ultime settimane i lavoratori denunciano però di essere stati maltrattati e costretti anche ad abusi. Molti sono stati sfollati nella Giordania occupata, almeno 4.000 sono stati detenuti dalle autorità israeliane e sottoposti a interrogatori. Il bilancio delle vittime di Charan in Europa è salito a 16 venerdì sera mentre la tempesta si abbatte sull'Italia. Il Veneto è in allarme rosso con un livello dell'acqua che ha cominciato a salire già da tempo. In precedenza il governo italiano ha dichiarato lo stato d'emergenza in 5 province toscane dove si registrano almeno 6 morti. Sono stati inviati ulteriori aiuti, la situazione viene descritta come catastrofica. È stato necessario evacuare centinaia di persone. In alcune zone in sole tre ore è caduta la quantità di pioggia di un mese. Venerdì la Corsica è stata colpita da venti senza precedenti fino a 140 km orari. I paesi balcanici come Croazia, Bosnia, Montenegro e Slovenia hanno avuto la loro parte con alberi sradicati e tetti divelti. Una nuova tempesta chiamata Domingos dai meteorologi spagnoli dovrebbe colpire l'Europa sud-occidentale questo fine settimana. Si prevede che porterà venti fra i 130 e i 160 km orari in Francia, Spagna e Portogallo. Un forte terremoto in Nepal ha provocato la morte di almeno 128 persone. 12 invece sarebbero rimaste ferite durante il sisma che ha colpito il distretto di Jajarkot. Il bilancio però è destinato a salire. Il terremoto è avvenuto nella notte di venerdì con una magnitudo di 6.4, secondo il centro sismiologico del Nepal, mentre l'US Geological Survey lo ha declassato a 5.6. Diversi edifici sono crollati e le scosse sono state percepite fino a Nuova Delhi in India.